Tutte le nove emozioni all'ordine del giorno nel question time di ieri sera sono passate, seppur le ruggini tra maggioranza e opposizione siano all'apice complice al ricorso presentato dalla coalizione di centrodestra, non ci sono stati troppi giochi di appartenenza all'aula in apertura, detto sia all'intitolazione di una strada, all'archeologo Sebastiano Tusa, uno dei padri culturali della città, impegnato per anni nelle ricerche del patrimonio storico sommerso e morto in un incidente aereo. Dopo le polemiche di qualche settimana fa c'è stato il voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione di un'astenzione. La mozione porta alla firma del consigliere comunale Vincenzo Cascino che ha spinto per ottenere l'impegno dell'amministrazione comunale ad avviare l'iter per celebrare Tusa e il lavoro svolto in città. Il sì, anche se più risicato, è arrivato per mozioni presentate dalla grillina Virginia Farruggia che toccano aspetti quanto mai risolti. L'attenzione del consigliere comunale Pentastellato si è concentrata sull'area della riserva orientata a viviere nel corso del tempo in assenza di controlli. Una zona sotto tutela si è trasformata in terra di conquista per chi smaltisce illecitamente rifiuti speciali, dandoli poi alle fiamme una terra dei fuochi denunciata dai responsabili della riserva e ora dal consigliere che ha portato il caso in aula. E' passata inoltre la mozione che dovrebbe consentire di riprendere un iter finito nel dimenticatoio. Quattro anni fa già a livello ministeriale era stata prevista la riperimetrazione delle aree ricomprese nel sito di interesse nazionale. Quello che apre, almeno sulla carta, le bonifiche. Vanno inserite altre aree e c'era stata l'intesa. Per il consigliere Farruggia la procedura va ripresa. Forti perplessità sulla competenza in materia del comune sono state sollevate dai consiglieri Giuseppe Morselli e Rosario Faraci, presidenti rispettivamente della commissione urbanistica e di quella sviluppo economico. L'amministrazione comunale, sempre su iniziativa del consigliere Farruggia, dovrà inoltre intervenire vietando la presenza in città di circhi che abbiano animali tra le attrazioni. L'aula ha approvato l'istituzione di una consulta dell'agricoltura e il rafforzamento dello sportello rivolto al settore, su mozione presentata dai consiglieri Luigi Di Dio e Carlo Romano. E' passata anche quella che prevede interventi di manutenzione e adeguamento del mercato ortofrutticolo avanzata dalla commissione urbanistica. Illuminazione e sistemi semaforici da riattivare e potenziare nella zona di Via Venezia e lungo un tratto di Via Mare sono stati temi toccati nella mozione presentata dal consigliere Rosario Trainito. Sono stati indicati immediati interventi anche per il quartiere di Macchitella con la mozione presentata dal consigliere Paola giudice con l'emendamento del consigliere Farruggia. E' passata inoltre anche la mozione dei consiglieri DEM Gaetano Orlando e Alessandracia che prevede una profonda riorganizzazione della burocrazia municipale a partire dai sistemi gestionali applicati.